9 esercizi commerciali controllati, 50 multe per violazioni e il codice della strada e 3 locali sanzionati per mancanza di licenze per la somministrazione di bevande alcoliche. Finisce così il primo fine settimana di controlli decisi al tavolo per la sicurezza pubblica della prefettura con comune e forze dell'ordine, dopo i tre episodi di violenza consecutivi avvenuti in piazza della Badia ad Arezzo. Attività anti Malamovida che ha visto controllare 450 persone e 120 veicoli, il bilancio è stilato dalla Questura di Arezzo che così come preannunciato dalla prefetta Maddalena De Luca si è fatta capofila nel coordinamento delle attività interforze. Le verifiche durante soprattutto la serata del sabato hanno riguardato piazza San Francesco, via Cavour, Corso Italia, piazza Sant'Agostino, Guido Monaco e piazza della Badia. Quest'ultima in particolare specificano dalla Questura in una nota luogo di ritrovo per molti giovani e oggetto di attenzione da parte del personale operante. Vista l'efficacia di tali servizi per scongiurare potenziali situazioni capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica, concludono nei prossimi weekend il dispositivo interforze di controllo del territorio, in particolare del centro cittadino, verrà mantenuto.